Oh, mi è sembrato di vedere un bulldog! Cosa dovete sapere prima di adottare un bulldog francese? Vi ricordo che loro sono cani davvero speciali dal punto di vista dermatologico. Partiamo dalle loro zampine. È molto importante controllare sempre gli spazi interdigitali e verificare che non si creino foruncolosi. Mi raccomando, la manutenzione delle pliche facciali, le pliche del naso e le pliche degli occhi vanno pulite tutti i giorni con un prodotto cremoso, possibilmente privo di disinfettanti se non ce n'è bisogno, in modo da rimuovere il biofilm. E poi ricordatevi la pulizia delle orecchie senza abusare di liquidi disinfettanti, ma andate sempre ad esplorare i loro canali auricolari con un cotonfiò. Il bagnetto almeno una volta al mese con un detergente non profumato, possibilmente senza clorestidina, a meno che non ci sia l'indicazione del medico veterinario. E infine i loro occhi vanno tenuti molto puliti e qualora notaste delle secrezioni più dense di colore giallo o bianco, contattate subito il vostro veterinario di fiducia. Abbiate sempre cura del vostro bulldog perché in questo modo la salute della sua pelle sarà preservata al meglio.